È stata prorogata la chiusura delle scuole fino a metà marzo, questo genera un grave problema per gli educatori, questa figura della didattica che riceve un compenso in base alle ore di servizio. Sì, ovviamente l'attività sospesa delle scuole provoca una penalizzazione per una categoria ben precisa di lavoratori, che sono gli educatori, oltre che gli ausiliari addetti nelle scuole e nei servizi educativi. È chiaro che un'ulteriore proroga comporta un'ulteriore situazione di difficoltà. Da questo punto di vista, come sindacato, stiamo monitorando la situazione dal principio, dal momento della sospensione, quindi quasi due settimane fa. È chiaro che abbiamo contattato le cooperative che hanno in carico i servizi educativi della provincia, in primis il Comune della Spezia, come pure la Valdimagra e la Valdivara, con i quali abbiamo cercato di fare degli accordi che consentono ai lavoratori di avere un sostegno al reddito e di non perdere denaro in un momento, tra l'altro, molto difficile per l'economia locale. E quindi abbiamo già concordato dei protocolli che porteranno ad accordi con il Fondo di Integrazione Salariale che consentirà a questi lavoratori di coprire i periodi di inattività. Oltre alla figura degli educatori, lo stesso problema riguarda coloro che si occupano del servizio di mensa. Beh, il problema è il medesimo, perché in mancanza di alluni è chiaro che non c'è il consumo dei pasti e questo comporta ovviamente per l'interrogatore, tra virgolette, un risparmio perché i pasti non verranno pagati vuoto per pieno. E quindi anche le aziende stesse, non avendo introiti, non producendo pasti, avranno un esubero per quanto riguarda le attività di ristorazione. Anche per questo settore ci stiamo attivando, vediamo se ci sono le condizioni per fare i medesimi accordi, e quindi il Fondo di Integrazione Salariale, detto FIS, in alternativa stiamo attendendo novità per quanto riguarda la Cassa Inderoga, che tra l'altro dovrà essere destinataria per tutti quei settori che in questo momento stanno vivendo un momento di sofferenza, in primis sia il turismo che il commercio.